Questa è la più venduta macchina elettrica del mondo, mi sembra. Anche il volante è riscaldabile, io che sono una freddolosa. Facciamo gli uomini dietro o vuoi salire in avanti? No, no, vabbè che sia. E vai! Non fa? No, 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 no. Pepe, choro! Perché aspetta! Adesso facciamo restyling Che è un po' più dinamiche Secondo me è molto più bella Esatto Così è molto meglio, vero? Ah sì Adesso questo lo metto su di, col pad Perfetto, adesso qui c'è, non rimane, questo non è come gli altri Ritorna sempre lì, però sei su di, quindi puoi partire Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai È il tuo momento È il tuo momento Sì, quando ci sono le 5 telecamere Allora, formare qui Vai, questo R, sì E adesso c'è il resto Spera che le faccio Sì 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 Ah, così no? Sì Così ti regoli Perfetto Perfetto Grazie mille ragazzi Grazie